come funziona questa macchina? c'è questa specie di botte qua dentro che non è altro che una ruota questa ruota ha tante viti disposte in maniera regolare queste qui sono tutte viti no? però solo ogni tanto ci trova una calamita questa qui che ho preso in mano è una calamitina la calamitina noi la prendiamo la mettiamo dove vogliamo noi più qui piuttosto che qui no? cosa serve la calamita? la calamita serve quando viene passa via fa alzare questi martelletti perché sotto il martelletto c'è un'altra calamita messa con il senso con la positività opposto no? quindi viene respinta e quindi quando passa la calamitina si alza il martelletto quindi in base a come noi disponiamo le varie calamite su ogni cerchio passando via i martelletti si alzeranno poi c'è un motorino che fa girare questa grande ruota grazie a un elastico niente di niente di straordinario un motorino molto piccolo e quindi quando è azionata questa ruota spinge su tutti questi martelletti che si vedono saltare no? e a questo punto se noi appoggiamo un pezzo di legno sopra ecco qua il gioco che veniva fuori prima grazie grazie